un cazzo di passaggio vacca boia che nervoso e non si tratta di un cazzo di passaggio qui è la sala io il tuo ferro io il tuo ferro il figlio vuoi andare mi viene bruciato? la rete di ferro ma non può che non ci chiedi oggi li prendi io tiro lì a questi qua e la storia spinge e hai persino perché l'ho preso e l'ho compato subito e l'ho messo di per me se io lo tiravo 이 touzzi e se lui una puffa l'ho venuto sul Nap Napierню e la voleva mangiare il scemo lui ha fatto la mani bra ta io l'ho posato se voleva mangiare aqua cazzo e se lui lo tirava via ve lo dire urgh trasporti torrenti Sì, sono un po' di cappi, nè! Sì, è un po' di cappi, nè! Sì, è un po' di cappi! È un po' di cappi! Sì, è un po' di cappi! Ragazzi, che mi controlla con l'altra? La rifà con me! Sì! Sì, sono un po' di cappi! Non è un po' di cappi! E non c'è stato un po' di cappi! Ci sono due due! Sì, è un po' di cappi! È un po' di cappi! Ci sono un po' di cappi! nasale anche se questo qua c'entra lo stesso no non entra, va a filo questo qua è il tuo Simone Artimede ha tirato fuori l'ingegno anche questa qua mi sa che si mette un po' lo spazio quale? quella la, no, se la riusi piano piano però quella che c'è lì si sta vitticando come è che stanno facendo? solo questi due qua uno e due vediamo adesso com'è se questo lo vuoi ah ok, si arriva lì in fondo se lo prendiamo lì si, anche se ti rimane questo pezzo qua no, ma magari riusciamo a sfidarlo giusto oh, ma sti peci si lasciano a peso morto comunque ho capito com'è che si chiama il peso morto eh, ma che è una bestia questa è un bel esemplare guardate che non tirano guardatelo oh, allora ah, ah ha ah, ha, ha ah, ha ah 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 chi è che c'ha il nastro? chi è che c'ha il nastro? nessuno? io era il tuo è il tuo via 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 la si allora ce la fa tirarlo fuori o no ciao pazzo oh tre no ce l'hai fatta niente ma che ti ha si e poi li metto la stesona no niente la stessa è un giorno che non mi metto Quello è semplice. Mi sa che mi ha fatto i nervosini? Mi ha fatto i nervosini.